Presidente, quest'oggi nella Locride un tour, tu intera giornata dall'antica Kaulon di Monasterace. Ecco, la situazione è drammatica per quanto riguarda quel bene archeologico che va tutelato. Stamattina abbiamo avuto, con la visita lì a Monasterace, sull'antica Kaulon, l'inizio di una lunga giornata. Non è a caso che ho incominciato la giornata da lì. Io, due anni e mezzo fa, quando in occasione delle elezioni regionali venni proprio su quel sito, mi resi conto che era ad alto rischio perché l'erosione della costa stava per mettere in pericolo l'insediamento dell'antica Kaulon, del Tempio. Ho assunto un impegno, quello di intervenire, investire per creare le opere di difesa della costa e di tutela di quel sito. Sono ritornato oggi con i lavori in corso che noi abbiamo programmato, per i quali abbiamo destinato risorse importanti, per constatare e verificare con un sopralluogo lo stato dei lavori. Stanno andando avanti, quindi abbiamo visto bene, abbiamo aperto il cantiere, si stanno realizzando le opere per difendere un insediamento di inestimabile valore che nel percorso della Magna Grecia assume una importanza straordinaria perché l'insediamento archeologico dell'antica Kaulon è un insediamento di grande valenza e di grande valore storico e culturale.